A noi è importante, perché venivamo da un viaggio alla Kazan veramente massacrante, con tante problematiche di recupero, anche un po' fischie di quanto ha cercato. Siamo stati bravi nel star lì 40 minuti, non mollare mai cercando di mantenere i nostri principi difensivi, che erano quelli di cercare di ruotare il meno possibile, lasciare due contro due su tutti i carò centrali. Non l'abbiamo fatto nel primo quarto, dove siamo andati in troppa rotazione, l'abbiamo battuta troppo facilmente, infatti abbiamo preso delle bombe molto semplici. Poi però ci siamo stretti un pochino. Di difesa, tranne qualche stupidata di qualche canestro facile, siamo riusciti a contenerle almeno.